Musica, cinema, editoria, teatro e non solo nei 50 appuntamenti per il 50ennale dei premi internazionali Flaiano ad annunciarli la presidente Carla Tiboni, un traguardo importante che vuole essere degnamente celebrato. Nati grazie alla lungimiranza del compianto Edoardo Tiboni, i premi Flaiano compiono 50 anni, eredità culturale raccolta dalla figlia Carla. Il 25 giugno i premi Flaiano di narrativa italianistica all'Aurum di Pescara mentre il 2 luglio la serata conclusiva con i Pegaso d'Oro assegnati a volti di cinema, teatro, televisione e giornalismo al teatro d'annunzio. Ho fatto anche una promessa a Edoardo Tiboni di portare avanti questa straordinaria avventura dei premi internazionali Flaiano e quindi dal 2 di marzo e quindi da giovedì inizieremo per il 50esimo 50 eventi. Ci siamo, abbiamo inventato questo slogan 50 Flaiano, 50 eventi e vi assicuro che saranno interessantissimi, divertenti, belli, culturali, importanti e saranno tutto ciò che sono i premio Flaiano. Scontato citare un aforisma di Flaiano, certo, certissimo, anzi probabile frase che ben si aggancia alla situazione attuale. Quale sarà il futuro del Media Museum? Allora, il Media Museum è ancora in attesa dei lavori che devono iniziare. Io non so nulla di questi lavori. C'è un finanziamento importante del Ministero dell'Interno. Allora, noi viviamo una realtà di degrado che non è assolutamente più sopportabile. La Fondazione Tiboni paga 2.000 euro di affitto al mese. Ho fatto più richieste ma evidentemente non c'è la volontà di abbassare questo affitto. Io ad oggi non ho alcuna cognizione del progetto. Il progetto non è stato condiviso dalla Fondazione ed è la Fondazione che ha fatto il partenariato con il Comune per partecipare al bando. Ma c'è un pregiudizio nei confronti dei premi Flaiano o no? Allora, chiariamoci. La Regione ci ha dato quest'anno 10.000 euro di meno. Non sappiamo quale sarà la partecipazione del Comune ai premi. Allora, se qualcuno ce l'ha con i premi, ce lo faccio sapere. Insomma, Flaiano, un marziano a Pescara? No, di certo la Presidente Carla Tiboni tiene a precisare che la cinquantesima edizione dei premi si terrà nel capoluogo adriatico che proprio a Egno ha dato i Natali.